Le ultime precipitazioni garantiranno l'acqua per l'estate, ma rischiamo di dover nuovamente turnare alcuni comuni. A dirlo è il presidente di Sasi S.p.A., la società acquedottistica, che rifornisce 87 comuni, tra cui Lanciano, Vasto e Ortona. Cioè 30 comuni per un totale di 30.000 utenze venivano privati l'acqua nelle ore notturne. Da 10-15 giorni le nostre sorgenti erano ritornate al massimo e quindi si è interrotta questa tornazione. Oggi il responsabile mi dice che ci è rimasta a disposizione un solo pozzo. Cioè noi, oltre alle 1270 litri che ci dà la sorgente del verde, abbiamo quattro pozzi a disposizione per un totale di circa 300 litri al secondo. Oggi un pozzo di queste quattro è l'unica ancora che non viene accesa. Quindi si ricorre il rischio, se non succede qualcosa di nuovo, di dover tornare a turnare una serie di comuni. Il problema però, che riguarda anche le altre società acquedottistiche, è che oltre la metà dell'acqua va persa nelle vetuste reti idriche. Secondo l'Istat, il record di spreco tra i capoluoghi di provincia nel 2020 è di Chieti, dove alle case non arriva quasi il 72% dell'acqua. E la situazione nell'Abruzzo meridionale non è molto migliore. Siamo al lavoro per individuare le perdite nei centri storici, ha detto basterebbe. La regione invece sta elaborando un progetto, finanziato col PNRR, che secondo il presidente di Sasi non andrà in porto. La regione ha deciso di fare un proprio, di non delegare i gestori, ma di fare un proprio progetto. Noi riteniamo che è sbagliato, visto da parte nostra. Va bene quello regionale, può anche continuare ad essere progettato, ma riteniamo che vanno gestiti anche i gestori, che finanziamenti possono essere più di uno anche all'interno della stessa regione. Intanto il 4 maggio Sasi dovrà approvare il bilancio e sarà eletto il nuovo Consiglio d'amministrazione. Basterebbe, al termine di due mandati, potrebbe essere confermato per ulteriori tre anni.